State attenti e motivate i vostri poliziotti. C'è un pericolo diffuso di terrorismo non strutturato, messo in atto da persone con problemi che vogliono emulare e nessun luogo immune, neanche l'Aquila. Con queste parole il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha avvertito i vertici della polizia nella penultima tappa del giro che ha intrapreso in tutte le questure dei capoluoghi, chiudendo all'Aquila e infine a Campobasso. L'Aquila è ritenuta città non particolarmente a rischio, ma il pericolo c'è ovunque e comunque. Questo l'avvertimento dell'ex prefetto del capoluogo, divenuto poi vice e capo della protezione civile, quindi prefetto di Roma, prima di approdare all'attuale incarico. Tra le indicazioni emerse, l'ipotesi di poliziotti sempre armati, anche fuori servizio, con un porto d'armi speciale, in modo da ridurre le dimensioni dell'arma di servizio. Nel suo stile comunicativo, ben noto in città, dai tempi in cui assunse la guida della prefettura, la mattina del 6 aprile 2009, Gabrielli ha voluto portare tutti i vertici della polizia a conoscere il territorio italiano. E all'Aquila sono rientrati altri due funzionari noti, gli ex questori Vittorio Rizzi e Giovanni Pinto, l'uno successore dell'altro, prima che arrivasse l'attuale Affonso Terribile. Il programma della mattinata è stato denso, prima l'incontro con i dirigenti degli uffici di polizia della regione e della provincia, poi quello con il prefetto Francesco Alecci, infine una riunione con le organizzazioni sindacali che si è rivelata intricata. I sindacati hanno lamentato l'annosa carenza di personale, ma stando a quanto appreso, è stato anche rilevato che a fronte di problematiche in effetti esistenti, l'Aquila si trova meglio rispetto a questure di dimensioni simili, ma con piante organiche ancora più ridotte all'osso.